La zona rossa l'abbiamo inventata noi. Il riferimento al terremoto dell'Aquila corre sul web dove nonostante il momento l'ironia non manca. Lo scenario però è desolante in centro con pochissime persone in giro. La gente esce o così dovrebbe essere soltanto per comprare l'essenziale. Come vedete alle mie spalle all'Aquila gira davvero pochissima gente, nessuno possiamo dire la strada è vuota. Questo è il primo giorno di lockdown di zona rossa per tutto l'Abruzzo e siamo venuti in centro a vedere com'è la situazione per quanto riguarda le attività commerciali. Le due facce della stessa medaglia perché per esempio ci sono attività che possono restare aperte, è il caso di quelle che vendono l'intimo, la biancheria e poi soltanto pochi passi del nostro viaggio, del nostro percorso e vediamo altre serrande drammaticamente abbassate che sono quelle ad esempio dell'abbigliamento, delle calzature ma anche delle gioiellerie. Questa è l'Aquila nel primo giorno di lockdown da zona rossa. Le attività sono abituate a resistere, lo hanno fatto tornando in centro nel doposisma dopo il primo lockdown ed anche adesso attivandosi prevalentemente con le vendite online per chi è chiuso. Ma oggettivamente è dura, ma non solo economicamente perché il presidente di Conf Lavoro e il rappresentante del movimento dei commercianti aveva spinto per un lockdown totale dal momento che per lui con tante attività comunque aperte la gente può continuare a girare. Nonostante la difficoltà economica per lui era necessario un reset totale perché l'emergenza vera ora è la salute. È una grande tristezza, è vero l'Aquila è doppiamente penalizzata, la nostra città sia dalla ricostruzione, dal terremoto, da mille altre situazioni. La cosa che vorrei sottolineare è che nella mia richiesta fatta al Comune dell'Aquila era di un lockdown molto più duro di questo. Invece qua il lockdown è un lockdown davvero libera tutti perché insomma chi si può andare a comprare la macchia, chi deve andare al parrucchiere, insomma la mia paura è che questo lockdown non riesca poi a salvare vite umane. Questa è la mia prima preoccupazione che non è soltanto a livello economico. Io avevo chiesto anche a danno delle mie attività, delle nostre attività, di tutti i commercianti, avevo chiesto un lockdown molto più serio di questo che è stato fatto. Questo qua non è assolutamente all'altezza del male che stiamo provando in questa città. Anche nei centri commerciali i supermercati sono aperti, così come i negozi per bambini, le librerie. Nel centro commerciale l'Aquilone sono comparse anche le luci di Natale, un segno di speranza forse in mezzo alle persone che un po' rassegnate si mettono in fila per la spesa. Comunque anche qui di gente ne gira poca. Comunque anche qui di gente ne gira poca.